cari amici e cari amiche di ciclo web della vuelta a espagna oggi non sono particolarmente brillante dopo questa tappa dell'alto de acebo inizia ad essere un po stanchino dopo due settimane di vuelta anche perché lo scenario il copione non è che stia cambiando più di tanto resta abbastanza uguale a se stesso ma in realtà io so che questa mia stanchezza dipende dall'idea che domani non ci sarà il giorno di riposo perché il nostro organismo di swiveur ormai di lunga data ormai è tarato sull'idea che il lunedì ci sia riposo e quando salta perché in questo caso sarà martedì c'è tutto uno scombussolamento generale fisico e morale va bene dai aspetteremo martedì per il riposo ma sarà già tardi allora la vuelta oggi ha proposto un altro nome nuovo quello di sepp kuss americano statunitense che ha vinto in fuga già gregario importante di primos roglice roglice a sua volta allungato ancora insieme a valverde allungato in classifica rispetto ai rivali valverde a parte e diciamo che i suoi avversari si stanno dando il cambio un giorno c'è valverde un giorno c'è pogaccio un giorno c'è lopez anche se a dire il vero il lopez di questa fase sembra il fratello scarso di quello che abbiamo ammirato scoppiettante e vivace nella prima settimana ha perso decisamente smalto il colombiano superman quintana di quintana non ne parliamo ha perso anche terreno oltre che smalto ed ora è molto lontano in classifica si danno il cambio un giorno c'è uno un giorno c'è l'altro la costante e roglice è l'unico che sta avendo un rendimento eccellente in maniera costante sempre uguale e quindi come lo abbatti ce lo chiedevamo già qualche giorno fa oggi più che mai perché continuano a essere superate delle tappe difficili o almeno insidiose e lui continua a essere sempre più forte al comando della vuelta ora gliene restano tre di tappe difficili da tenere a bada domani poi giovedì e infine sabato ma date le condizioni dei suoi avversari dovrebbe cadere un meteorite in testa al buon primos per per toglierlo di mezzo e noi glielo auguriamo ovviamente in classifica roglice a 225 su valverde 342 su pogaccia 359 su lopez e 59 su quintana la movistar oggi ha accennato un certo tipo di tattica arrembante sulla prima salita poi però si è fermata ha lasciato andare in fuga soler che però non ha avuto una grande utilità onestamente ha dato una mano a valverde con una tirata sulla salita finale non di quelle non di quegli aiuti di quei supporti che ti aiutano a ribaltare una corsa però valverde per valverde un bel podio non è assolutamente un risultato disprezzabile alla bella età di 39 anni lo stesso di casi per pogaccia un podio alla bella età ancora molto più bella di 20 anni non lo butti certo via e quindi non sarà lui ad andare credo allo sbaraglio anche perché ha un certo una certa reverenza nei confronti del connazionale è più blasonato roglice quindi magari non sarà proprio lui a cercare di mettere in difficoltà la maglia rossa prima di alte e quanto a lopez e quintana i colombiani sono in calo e quindi la vedo veramente grigia per loro e già non sarà facile per lopez risalire sul podio per quintana lo vedo abbastanza impossibile e quindi in questa situazione molto cristallizzata in cui la terza settimana finisce per sembrare quasi pleonastica andiamo avanti vediamo un po se succede qualcosa che ci ravvivi ma l'andazzo non sembra orientarsi in quella direzione e quindi possiamo anche dare un'occhiata alle classifiche minori ci aggrappiamo a questo per trovare dei motivi di maggiore interesse la classifica punti per come è strutturata la per come è strutturato il sistema dei punti alla volta vede al comando anche in questo caso roglice con 117 punti 90 ne ha pocaccia 82 valverde quintana solo 70 punti sam bennett che potrebbe avere un altro paio di tappe a disposizione sicuramente madrid forse anche guadalajara mercoledì però insomma roglice continuerà a fare punti anche nelle tappe difficili quindi probabilmente non gli sfugge anche la maglia verde fa un plane invece per la maglia bianca dei giovani qui la lotta è vibrante pocaccia a 17 secondi su michelangel lopez e questo sarà questa sarà una sfida che seguiremo con attenzione e da un lato sarà anche una controindicazione per lo spettacolo perché magari i due tenderanno a far corsa l'uno sull'altro piuttosto che magari battagliare con gli altri ricordate al giro dell'anno scorso cosa combinarono lo stesso lopez e carapaz a inseguire la maglia bianca a farsi la battaglia e a mettere in campo una tattica molto molto sparanghina e antispettacolare veniva veramente da prenderli a schiaffi tutti e due simpaticamente parlando quindi pocaccia a 17 secondi su lopez il terzo è i ghita lontanissimo a 9 e 46 la classifica a squadre non la citiamo neanche tanto sapete che la vince sempre la movistar a 28 minuti e 50 sulla bastana 45 31 sulla jumbo visma vabbè è uno degli obiettivi fissi della movistar nei grandi giri sono contenti così buon per loro e poi la classifica più appassionante a mio modo di vedere insieme a quella dei giovani è quella per la maglia a pois e qui è appassionante perché abbiamo un protagonista che sta diventando via via il fantasma di se stesso cioè anche il madrato che ha fatto una prima settimana strepitosa è andato in fuga quasi tutti i giorni ha fatto punti su quasi tutti i gpm ha vinto pure una tappa e poi si è finito lì praticamente dopo sette giorni di vuelta 8 giorni era praticamente già esausto e in questa seconda settimana non ha fatto altro che trascinare la bicicletta si è inserito anche un paio di volte ancora in fuga ma è rimbalzato su dei cavalcavia facendo anche una brutta figura per essere il portatore della maglia a pois di migliore scalatore però siccome in fuga ci andava ora uno ora l'altro non c'è stato un vero e proprio rivale che abbia fatto molti punti sui gpm e anche gli uomini di classifica non ne hanno fatti poi tantissimi sulle salite finali madraso in madraso incredibilmente anche se è trasfigurato dalla fatica e dal dolore è ancora a pois a 32 punti 30 punti li ha il francese bouchard che lo segue da vicino e poi a 25 pocaccia al 22 valverde 21 sergio nao altro fuggitivo che abbiamo visto spesso all'opera nelle prime tappe questo è quanto credo che per essere una domenica sera con tutta la con tutta l'aura di malinconia che ci pervade sapete le domeniche sere di settembre sono un po così credo di potermi fermare qui darvi appuntamento domani dopo questo arrivo della cubiglia vediamo speriamo che succeda qualcosa di vibrante però mi fermo qui ciao da ciclo web